La Croce Rossa italiana, comitato locale di Bedonia, Compiano e Tornolo, vi invita alla presentazione e alla benedizione ufficiale del nuovo mezzo. Si tratta della nuova ambulanza Parma 31 che si terrà il prossimo 26 di dicembre alle 10.30. È previsto il ritrovo presso la sede alle 11.15. Sarà celebrata la Santa Messa, seguirà poi la benedizione del mezzo alle 12 i saluti delle autorità. Saranno presenti Paola Armani della sezione femminile, Gerardo Piombo dei pionieri, Alessandro Moglia dei volontari del soccorso, il commissario comitato locale Cri Mauro Mallero, oltre ovviamente ad altre personalità. Al termine della cerimonia sarà offerto un brindisi con rinfresco. E ora voltiamo pagina, parliamo dell'istituto Zappafermi di Borgotaro, l'istituto di istruzione superiore che ha presentato ufficialmente il nuovo sito internet della scuola. E nella tradizione di attività culturali, di apertura verso il mondo esterno, lo Zappafermi inaugura un nuovo sito internet particolarmente efficace e interessante, che si apre i social network, ma non in maniera automatica, con una forte discussione anche sui limiti di questi strumenti. Paolo Piscima è uno dei coordinatori che ha contribuito alla creazione di questo sito. Oltre agli aspetti tecnici, tanti principi e tante domande che si sono fatte sul modello di comunicazione che una scuola deve avere nei confronti delle famiglie, degli studenti e perché no della società. Sì, ovviamente il sito è solamente uno degli strumenti che possono essere utilizzati per migliorare anche la comunicazione, non solo con le famiglie, con gli studenti, ma anche col territorio. È venuta fuori dalla discussione anche la possibilità e il ruolo che deve avere la scuola per poter essere un veicolo anche di pubblicizzazione e di estensione di tutte le ricerche, di tutti gli studi, di tutto quello che riguarda il territorio. Dunque la scuola anche fondamentalmente come risorsa al servizio del territorio, questo deve essere centrale. Il sito è un momento di tutte queste cose qua, un mezzo, uno strumento che può essere utilizzato in questo senso. Ecco, proprio un mezzo che fra altre cose diciamo non è costato niente alla scuola ed è fatto tutto con volontariato e con uno strumento open source, vero? Sì, diciamo che le uniche risorse che sono costate alla scuola fino adesso è il fatto che io sono funzione strumentale della scuola e per cui ho un compenso lautissimo per tutto quello che abbiamo fatto, ma soprattutto non sono io, sono i ragazzi che hanno lavorato perché, come dicevamo, loro sono molto più addentro di noi in queste cose, sono molto più appassionati, sono veramente... Alcuni di loro stanno già lavorando e troveranno un lavoro dopo su tutto questo che hanno fatto, che è un qualche cosa che serve a loro ma serve a tutta la scuola e deve servire soprattutto a trasmettere conoscenza anche tra i ragazzi che il prossimo anno usciranno e quelli che sono già entrati o che entreranno, perché ci deve essere una trasmissione di sapere, di capacità, di passione per queste cose, per il lavoro all'interno della scuola, che è fatto non solo da me, insomma, è fatto tutto da un insieme di insegnanti che lavorano su tutto questo, su diversi progetti, io mi sono occupato di questo e di qualcos'altro, ma il discorso è sempre di un team di persone che lavorano per stimolare, per incoraggiare, per aiutare i ragazzi in questo tipo di percorso. Senti, si è affrontato anche il tema dei social network, comunque dei sistemi di comunicazione sociale che è molto usato dagli studenti ma che hanno dei limiti, hanno grosse potenzialità ma molti limiti. E' certo, dicevamo, io penso che la scuola non può impermeabilizzarsi, non può essere chiusa, perché di fatto c'è già dentro, perché i ragazzi si scrivono, a volte anche i giornali utilizzano, i grandi media utilizzano un po' strumentalmente il discorso, ma l'insegnante parla con i ragazzi, l'insegnante è uno che sta in una società e dovrebbe starci con una certa responsabilità, con una certa deontologia. Certo, noi siamo una società fatta in un certo modo, per cui non è che possiamo dare dei diktat. Ecco, ricordavo che per esempio una scuola in Portogallo con cui noi abbiamo fatto un Comenius, Comenius è un progetto europeo, un progetto europeo molto bene organizzato, per esempio loro utilizzano Facebook per comunicare con tutte le famiglie, con tutti i ragazzi, anche dai ragazzi che è venuto fuori il discorso che Facebook è uno strumento che utilizzano tutti i giorni, per cui se loro trovassero delle indicazioni che ci sono sul sito della scuola che vengono pubblicate su Facebook, loro magari avrebbero più interesse ad andarci. Ecco, secondo me bisogna tenerli presenti tutti gli strumenti, più strumenti si usano, meglio è. Vi ricordo che il punto Enel di Borgotaro rimane chiuso dal 27 di dicembre al 4 gennaio 2012 compreso. E ora il meteo. Domani, vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, avremo nuvoloso al mattino, precipitazioni deboli e irregolari con locali rovesci sui rilievi, quota neve tra 1000 e 1200 metri. Le temperature minime in risalita, valori tra 0 e 1 gradi, le massime inflessioni tra 7 e 9 gradi, i venti saranno forti, sui rilievi. I programmi della nostra emittente, tra poco alle 20 e 45, il programma musicale 80 Nostalgia, segue alle 21 e 30 VIP Show e al termine il nostro TG. È tutto, grazie per l'ascolto. Torniamo domani, ovviamente, ultimo giorno prima dello stop del Natale. Arrivederci dunque a domani sera, 19.35.